Buongiorno Buongiorno all'Ambasciatore Massimo Iannucci, inviato speciale del Ministro Frattini in Afghanistan e in Pakistan. Benvenuto a Decoder. Grazie. Oggi parliamo di Afghanistan che rimane sempre al centro dell'attenzione internazionale, delle crisi più complesse. Le faccio vedere prima un breve contributo del Ministro Frattini. Sta succedendo che i terroristi vogliono boicottare la grande Assemblea Nazionale di Riconciliazione, così come le elezioni politiche che si svolgeranno in autunno, e vogliono boicottare il vertice dei ministri degli esteri che terremo a Kabul il 20 luglio. Il 20 luglio a Kabul ci sarà questa conferenza internazionale sull'Afghanistan per fare un punto, però io prima vorrei fare con lei una riflessione di carattere generale. Sono passati quasi nove anni dall'inizio della missione internazionale, la situazione è tutt'altro che normalizzata. Gli attentati proseguono ancora, muoiono i militari occidentali, muoiono i civili, i talebani sono fortemente radicati nel sud del paese. E anche il caso McChrystal, quindi la rimozione del capo del contingente della coalizione, dimostra che gli Stati Uniti che sono la guida della coalizione sono in difficoltà. E poi nel nostro caso naturalmente l'ennesimo attacco che ha visto coinvolti i nostri militari, ci sono tre militari feriti. Insomma, lei vede una luce in fondo al tunnel, secondo lei è ancora realistico immaginare un inizio del ritiro delle truppe da luglio 2011? Il tunnel è lungo, non è un tunnel di quelli che si attraversano facilmente, la luce c'è, prima o poi si dovrà vedere. In questo io sono ottimista, è una delle operazioni più difficili che la comunità internazionale ha dovuto affrontare nell'ultimo secolo. È un'operazione straordinariamente complessa sotto il profilo militare, ma anche sotto il profilo del coordinamento delle iniziative civili. Io voglio anzitutto rendere omaggio a quei militari che continuano a sacrificarsi per offrirci questa cornice di sicurezza nell'ambito della quale possiamo portare avanti le iniziative civili di ricostruzione, ma è un dato di fatto che la strategia internazionale in Afghanistan sta gradualmente cambiando. La Nato è andata lì su incarico delle Nazioni Unite per stabilizzare il paese, ha un compito quindi diverso diverso da quello della missione dell'operazione Enduring Freedom scattata dopo l'11 settembre, ma questa azione di stabilizzazione permette lo svolgimento all'interno del paese, nelle differenti province, di iniziative di assistenza umanitaria, di assistenza alle istituzioni, di sviluppo dei commerci e in prospettiva anche dello sviluppo degli investimenti. E' su questa strada che noi italiani, devo dire, siamo stati un po' in… abbiamo giocato un po' d'anticipo, così per fiuto forse, più che per una scelta razionale. Come ha detto il Ministro Frattini in questi giorni, la nostra presenza civile in Afghanistan durerà anni e anni, non lasceremo l'Afghanistan, non lo abbandoneremo, non abbandoneremo quelle persone, non solo perché è un dovere di convivenza internazionale, ma anche perché è nell'interesse nostro che quel paese non ricaschi nel caos, sotto il controllo di ambienti legati alla criminalità internazionale e al terrorismo. Quindi vedo in prospettiva un abbassamento laddove è possibile della presenza militare, che oltretutto rappresenta un costo straordinario, che in un momento di crisi internazionale è anche difficile da sostenere e nello stesso tempo un aumento dell'azione civile, ma non tanto dell'azione civile pubblica. Noi stiamo puntando, abbiamo puntato già da un paio di anni, ad un coinvolgimento del settore privato, per esempio, in Afghanistan. Senta, invece tornando all'aspetto militare, noi come governo italiano abbiamo assicurato dei rinforzi, questi rinforzi ci saranno, secondo lei come si riuscirà a renderli operativi, anche alla luce, sappiamo tutti della scarsità di risorse? Sicuramente noi faremo fronte ai nostri impegni, abbiamo un onore che i nostri militari manterranno, il nostro governo porterà avanti, farà fede alle promesse e quindi entro l'anno arriveremo a circa 4 mila militari italiani sul posto. Credo che gradualmente però questa presenza si trasformerà in un più accentuato, in una più accentuata componente di formatori, di addestratori, di militari più che operativi sul campo, di militari che invece contribuiscono alla formazione dell'esercito afghano. Bisogna fare attenzione su questo e ripeto quello che ha detto il Ministro Frattini. Non guardiamo solo l'Afghanistan sotto il profilo militare, perché finiamo per deformare la complessiva azione italiana in questo Paese. I militari sono indispensabili per assicurare questa cornice di sicurezza, sono lì e danno la loro vita per permetterci di svolgere queste altre attività. Sulla stampa si dà rilievo a quello che accade purtroppo perché si tratta anche di tragedie umane, però c'è tanto che l'Italia sta facendo. Lo stesso Obama ha parlato recentemente in un'intervista a un quotidiano italiano dell'impegno straordinario dell'Italia su questo fronte, però io mi permetto di insistere per quanto riguarda la sicurezza, perché questo è il settore in cui ancora si registrano le maggiori difficoltà. Mi leggo alla conferenza del 20 luglio in cui si farà il punto della situazione, si parlerà anche di sviluppo economico, di governance, però c'è chi immagina e chi spera che si farà un passo avanti per quanto riguarda il depennamento di alcuni gruppi talebani dalla blacklist per avvicinarli a un percorso di riconciliazione. Quello che le volevo chiedere è se questa cosa che sarebbe determinante per migliorare, alleggerire la crisi, andrà in porto, soprattutto se gli Stati Uniti sono convinti di questo. Guardi, qui dobbiamo fare riferimento a due argomenti che verranno trattati a Kabul il 20 luglio, ma che sono già stati approfonditi nelle riunioni degli inviati speciali nei mesi scorsi. La reintegrazione e la riconciliazione. La reintegrazione è il recupero di quei talebani che combattono solo per ragioni di povertà, non hanno nient'altro da fare e svolgono questa attività come mezzo di sostentamento. Il miglioramento delle condizioni economiche del Paese in quelle province a cui facevo prima riferimento, dove è possibile sviluppare un'economia non necessariamente con aiuti pubblici, ma un'economia attraverso canali economici internazionali può portare all'abbandono delle armi da parte di questi gruppi. Diverso è il discorso della riconciliazione, cioè quello a cui lei sta facendo riferimento, il discorso del recupero di quei responsabili talebani, di quei dirigenti politici per reinserirli nella vita politica dell'Afghanistan. Ma qui, anche qui dobbiamo fare una distinzione. L'impressione che noi abbiamo è che ci sia un nocciolo duro di terroristi con i quali ogni forma di dialogo è assolutamente impossibile. Sono dei radicali, sono connessi, legati o fanno parte del gruppo di Al Qaeda. Con questi il dialogo, il recupero o il reinserimento nella vita politica dell'Afghanistan mi sembra un'utopia, almeno per il momento. Ci sono altri esponenti politici che si sono trovati sulla base di una civiltà tribale, sulla base della situazione interna di un paese non tenuta da un collante statuale efficiente, frammentato in varie realtà locali, si sono trovati a combattere fra di loro o contro gli stranieri che di volta in volta arrivavano o arrivano sul loro territorio, ma con i quali una forma di dialogo può essere avviata. Certo, ci sono quelli che si sono macchiati di crimini terribili, ce ne sono altri con i quali probabilmente il Presidente Karzai cercherà di stabilire un movimento di attrazione nella vita politica del paese. Gli Stati Uniti sono d'accordo su questa linea? Credo che gli Stati Uniti pragmaticamente vedranno se questa linea potrà essere eseguita, è comunque questo il cammino sul quale ci stiamo incamminando e ci stiamo muovendo, un cammino verso la responsabilizzazione delle autorità afghane nel pieno rispetto della sovranità del paese. Perfetto, abbiamo adesso le idee più chiare, possiamo spegnere il decoder. Gli Stati Uniti Gli Stati Uniti Gli Stati Uniti